A oltre 2050 anni di vita, dopo aver sopportato prima le acque del Brenta e poi quelle del Bacchiglione, e nei tempi moderni il peso non da poco di macchine, autobus e tram, è sempre lì a ricordare la grande Patavium romana, seconda città dell'impero insieme a Cadice, che tra il 40 e il 30 a.C. costruì questo gigante dell'edilizia civile. Ponte romano diverso dagli altri per i tre archi ribassati, lungo 53 metri, largo 8,5, il San Lorenzo, di proprietà del comune, in passato era visitabile grazie ai volontari di Salva l'Arte e di Lega Ambiente, poi allo scadere della convenzione più nulla e ora il gigante un poco soffre, non solo la solitudine ma proprio a causa del traffico pesante. Questo ha creato problemi strutturali e di permeabilità delle acque, il vero problema del ponte oggi è che filtra l'acqua, con il nostro progetto, il primo stralcio di 340 mila euro, cosa faremo? Garantiremo l'impermeabilizzazione e tutti quegli interventi strutturali che permetteranno finalmente il consolidamento dei conci e andremo a togliere i materiali ferrosi, il problema è il percolamento. Il ponte San Lorenzo tornerà bello e integro ai padovani e ai molti turisti il prima possibile già dalla primavera estate 2020, anche, spera Colasio, con l'aiuto delle associazioni culturali. In un secondo lotto di lavori verranno rifatti gli ingressi. È previsto un secondo stralcio dove immaginiamo di cambiare l'ingresso, che oggi è un po' infelice, realizzando un ascensore.